Adesso faremo la prova con una bottiglia di vetro abbastanza spessa, sempre alla distanza di 15 metri, con la pistola aria compressa a CO2, che sarebbe la copia della Beretta FS92, infatti questa pistola è proprio Beretta, proprio su ordinazione della Beretta. Vediamo se riesce a romperla, questa è una pistola a libera vendita, quindi è depotenziata. Vediamo se riesce a romperla, l'ha proprio aperta, guardate che cosa l'ha fatto, adesso ne spariamo un altro proprio per finirla proprio, per quanto è veloce la buca proprio. Ecco qua, non esiste più, tre colpi, tre centri, lui è il tiratore, che non sbaglia un colpo, vedete come fa la Cowboy, una pistola veramente precisa e veramente bella, io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.